Ci troviamo qui come tutti gli anni per discutere e fare una riflessione in occasione proprio del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. I dati messi insieme proprio dall'Istat, presi dalle varie agenzie importanti che si occupano di violenza di genere, cioè il numero 1522 che è il numero attivo 24 ore su 24, i centri antiviolenza, quindi i CAV, le case rifugio, tutte le varie agenzie che sono magari il pronto soccorso o le forze dell'ordine, sono davvero sconfortanti. Un aumento incredibile proprio di ogni forma di violenza, che non è soltanto quella fisica che si vede quindi perché lascia i lividi, ma anche psicologica, moltissimo, quindi diffamazioni, ingiurie, discriminazioni varie. Poi la punta dell'iceberg e i femminicidi. 206 è il numero delle donne uccise dall'inizio di quest'anno e 5 sono le donne marchigiane che hanno perso la loro vita da parte del proprio compagno e del proprio marito. È incrementato il numero delle donne che sono state accolte dalle case rifugio, 143 sono le donne che sono state prese in carico, 75 le donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza e complessivamente 806 donne che nel 2022 hanno avuto il coraggio di denunciare. Un grande lavoro fatto dai centri antiviolenza, dalle strutture dei centri rifugio e tutte le strutture territoriali dislocate a livello provinciale, ma sicuramente un'analisi approfondita sarà sicuramente utile perché i dati comunque sia parlano di un aumento, i dati più significativi sono legati ai centri di antiviolenza che hanno 704 ingressi nell'anno e quindi l'anno precedente. Chiaramente questo è un dato sicuramente preoccupante perché comunque in aumento e soprattutto se lo rapportiamo ai dati del 2012 dove erano 300, questo fa capire che è un dato in continua crescita, dobbiamo capire anche se le attività che mettiamo a terra sono sufficienti, sono congrue ai risultati che ci abbiamo prefissati.